Luca, non voglio dire, ma quel tuo amico Mario che abbiamo incontrato in paese, no, renditi conto. Padre, Mario è simpaticissimo. Andiamo, quella famiglia dei cafoni a Cortina. Beh? Vino. Non voglio che i miei figli frequentino dei Torpigna. Dei cosa? Ma sì, Torpigna, quelli di Torpigna a Tara. Scusa, ma sei Torpigna? Dopo averci invaso a Piazza di Spagna, ci invadono anche Cortina. Allora? Allora non lo so. E diamoci la casa, e a me, è vero, che vi dici Giovanni? Sale. Io l'amico di Luca lo trovo abbastanza paraculo. Diamante, ma come parli? Beh, parlo Torpigna. Scusa Giovanni, insomma, vuoi dire qualche cosa ai due figli? Bada. Certo Giovanni, che il giorno che in questa casa avremo il piacere di sentirti esprimere un peggioro, allora sarà troppo enorme. Deva dirbinare. Certo. Certo. Grazie.